Eccoci qua che amici di Agronotizie, un saluto da Giuseppe De Vittis. Tempo tranquillo in questo weekend, ogni tanto qualche piovasco ci sarà, come per esempio nella giornata di venerdì, sui settori, soprattutto centro-orientali della Liguria, Levante Ligure, sulla Toscana, in particolar modo sulla Lunigiana, ancora foschie e nebbie, nubi basse in pianura al nord, sereno o poco nuvoloso altrove, semmai qualche nuvola in più tra la Sardegna e il Salento. Guardate invece cosa accadrà sabato, le nuvole tenderanno ad invadere proprio le regioni centro-meridionali, quindi cielo molto nuvoloso coperto, sereno o poco nuvoloso altrove, ancora foschie e nebbie, vedete, sul nord Italia, sulle pianure del nord. Domenica la nuvolosità si allontanerà, però sarà ancora presente tra, guardate, le Marche, l'Abruzzo, e poi nelle zone interne tra la Puglia, la Basilicata e la Campania sin verso la Calabria. Per il momento è tutto, cari amici, buon proseguimento, arrivederci!